Si è svolta nella zona monumentale del cimitero dell'Aquila la commemorazione del padre del movimento gay Enrix Ulrichs. Queste persone vivono delle ferite sociali gravissime che non sono state del tutto sanate da questa proposta di legge. In realtà la diversità è una ricchezza e non dobbiamo mai far sentire qualcuno inadeguato. L'associazione Consoli ha scelto la data del suo compleanno, il 28 agosto, per ricordare un uomo che con molto coraggio fece il primo coming out, outing, della storia, ben 149 anni fa. Facciamo parte di una grande famiglia umana che non è composta solo ovviamente di gay e che è fondata sulla solidarietà e sul rispetto reciproco. Perché i gay chiedono rispetto, rispetto della loro diversità ma anche della loro uguaglianza nei diretti rispetto a tutti gli altri. Ulrichs è stata una persona che per la prima volta nella storia moderna ha preteso rispetto in quanto, lui non diceva omosessuale, lui diceva uraniano. Ha avuto un coraggio veramente eroico davanti a tutta quanta la magistratura tedesca di dichiarare la sua omosessualità. L'ha pagato con l'esilio. Abbiamo anche deciso di raccogliere dei soldi per il comune di Amatrice, abbiamo scelto il comune di Amatrice, si poteva scegliere qualsiasi cosa, sono quattro soldi quelli che possiamo raccogliere, siamo poche persone. Invitiamo comunque la comunità LGBT italiana a collaborare con questa raccolta di fondi, è facilissimo, basta che dichiarate semplicemente che lasciate quei fondi e che siete gay. È un modo di far vedere che la comunità è d'accordo nel non lasciare solo le popolazioni. Tutto qui.